Temperatura piacevole, erbetta tagliata, regola d'arte e questa mattina ha aperto i battenti per la stagione estiva il Lido di Viale Trieste a Bolzano. Poco dopo le 9.30, orario d'apertura della struttura, diverse le persone già sdraiate a prendere il sole, altre già in acqua a compiere qualche bracciata, altre ancora in daffarata a preparare lettini e sdraio per la giornata di tintarella. Eh, perché non ci potevamo perdere il primo giorno di Lido, uno sprizzo d'estate. Eh sì, no, a me mi piace perché è comodo, no? Io abito 15 minuti di qua, allora sono stato sempre qua con i bambini e adesso... Il primo giorno di quest'anno e ci sono venuto con i miei amici. La stagione al Lido di Bolzano chiuderà il 14 settembre, da segnalare che a causa di lavori di ristrutturazione nelle prossime settimane e mesi non potrà essere utilizzata la piscina coperta. Il comune ha cercato di ottimizzare al meglio in modo che il cliente non sia quasi toccato dai lavori all'interno. Come, diciamo, utenza del Lido non dovrebbe avere nessun disagio. Ma all'esterno ci sarà probabilmente l'occasione di vedere all'opera dal trampolino la campionessa dei tuffi, Tania Cagnotto e compagni. Sì, certo, la Tania si allenerà tutto maggio, penso, e anche giugno. Sì, la potremo vedere. Poi ad agosto naturalmente c'è il meeting, quindi saranno qua tutte le nostre atlete di punta. Tra le notizie positive è quella riguardante i prezzi del Lido di Bolzano, rimasti invariati rispetto allo scorso anno. E allora non resta altro che sperare nel bel tempo, anche se domani gli esperti prevedono ai noi pioggia.